buongiorno ragazzi oggi la salita verso monte adone let's go però bella impegnativa ho deciso di raggiungere la vetta del monte adone che si trova a circa 655 metri sul livello del mare partendo dalla località brento una frazione di monzuno la salita non è banale per affrontare alcune zone spingendo la propria bicicletta naturalmente c'è da fare del portage un po' un po' un po' un po' un po' un po' ritmosi veros i eh i Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.